L'orologio da polso Presence rappresenta un'essenza di eleganza intramontabile e raffinatezza nell'ambito dell'arte orologera. L'orologio da polso Presence racchiude una storia di eleganza e raffinatezza, incapsulando l'arte orologera con maestria. Fin dalla sua introduzione, Presence ha rappresentato un simbolo di stile senza tempo e un impegno verso la qualità e l'artigianato. Il design di Presence è un inno alla sobrietà e all'eleganza. La cassa, lavorata con attenzione artigianale, si adatta al polso con comfort e raffinatezza. Il quadrante, con indici o numeri romani, incarna un'estetica leggibile e raffinata. Le lancette, sottili e precise, si muovono con l'aperizia di un meccanismo svizzero di alta qualità. Molte celebrità di fama internazionale hanno scelto Presence per esprimere il loro stile sofisticato e il prestigio che li contraddistingue. Dalla cerchia degli artisti all'élite sociale, molti hanno optato per Presence per la sua capacità di coniugare l'eleganza senza tempo con il lusso dell'arte orologera svizzera. Indossare Presence è un modo di rendere omaggio alla tradizione e al fascino dell'orologeria di lusso. Oltre al suo design raffinato, Presence si contraddistingue per l'innovazione e l'attenzione alla qualità. Movimenti precisi, materiali selezionati e funzionalità sofisticate si combinano per creare un orologio che va oltre le aspettative. L'orologio ha dimostrato di mantenere alti standard di precisione e affidabilità, onorando l'eredità dell'arte orologera svizzera. In conclusione, Presence rappresenta una sintesi unica di eleganza e raffinatezza senza tempo. La sua storia, il design distintivo e l'attenzione all'innovazione lo posizionano al centro dell'attenzione nell'universo dell'orologeria di lusso. Scegliere un orologio Presence significa abbracciare l'eredità dell'arte orologera svizzera e indossare un'icona di stile senza tempo. Con la sua storia affascinante, il design raffinato e l'impegno verso l'eccellenza, Presence brilla come una stella nel cielo dell'orologeria di prestigio. Optare per Presence è un tributo all'eleganza intramontabile e all'artigianato d'eccellenza.